Ubicato su un'altura da cui si gode uno splendido panorama sulle coline del Monferrato, presso il paese di Serralunga di Crea, non lontano da Casale Monferrato, il Sacro Monte venne edificato come altri suoi simili, ricordiamo quelli di Varallo Sese di Orta San Giulio dopo il 1590. La Basilica è di origine romanica, retta nel XII secolo, ma rimaneggiata ampiamente nei secoli successivi. Le cappelle che conferiscono al santuario il carattere di Sacro Monte sono in totale 23, realizzate dalla fine del Cinquecento al Novecento. All'interno di esse sono presenti gruppi statuari, realizzati da plasticatori e affreschi di varia comma. A presto A presto